Solite tagliatelle ragù? No, da oggi si cambia. Pasqualina è buona l'inzalatina. Riccardo, ma cosa sta succedendo? Semplice, anche il riposo è vegano. Nuova linea di materassi vegan, in memory, ora in offerta lancio. Il materasso che migliora il tuo riposo, rispettando animali e ambiente. No, sul letto no. Riccardo, Riccardo. No, loro no, ma voi sì. Tutti potete venire nei punti vendita a Riccardo Corredi a provare la nuova linea di materassi vegan. Una grande novità a livello italiano e naturalmente un riposo sano e naturale. Abbiamo fatto la linea alle alghe, un trattamento particolare sulla fodera, che vi permette anche un'azione antinfiammatoria. Inoltre abbiamo una linea anche alla soia. La soia è un procedimento naturale con dei filamenti particolari che abbiamo abbinato. l'argento al carbonio, l'argento a un antibatterico, il carbonio che toglie le cariche elettrostatiche. Pensate alla soia, che ha una sensibile riduzione di odori sgradevoli, un minor detetoramento dei tessuti, un prodotto non tossico, anallergico, morbidezza e resistenza. Ne fanno di un materasso della linea vegan il numero uno in Italia. Un prodotto di grande qualità naturale. E voglio ringraziare anche la certificazione dei Vegan OK che ce l'hanno approvata e sposata con noi. Adesso è in offerta lancio. È una cosa sensazionale che adesso è il momento di venire nei punti vendita. Riccardo Corredi a provare la linea dei materassi nuova. Grande offerta lancio ad un prezzo di fabbrica. Per non parlare che i nostri materassi partiamo anche da 199 euro matrimoniali. Abbiamo una linea medica dove si può portare in detrazione sia il 4% naturalmente per la legge 104 e anche il 19% sulla denuncia dei redditi. Come i nostri cuscini, anche quelli sono con una linea medica. Il meglio lo trovate da Riccardo Corredi, lo specialista del riposo. In tutti i nostri punti vendita potete venire a provarlo. E naturalmente ritorno sulla linea Vegan perché ci sta dando un grande successo ad un'offerta di lancio che voi quando capirete il prezzo lo acquisterete. Perché adesso il riposo è sano, naturale e un materasso lo cambiate dopo 20 anni. Vorrei passare anche alla linea delle poltrone. E anche le nostre poltrone possono avere l'IVA 4% e il 19% da poterlo scaricare sulla denuncia dei redditi. Tutto Made in Italy, due anni di garanzia su tutte le parti elettriche, tanti articoli, tanti tessuti, tanti colori, tanto risparmio con Riccardo Corredi. L'inimitabile Riccardo Corredi, di me ti puoi fidare. Alto, basso, mano, grasso, brutto, bello, Riccardo, Riccardo.